I palloncini bianchi volano in cielo, mentre un applauso rompe il silenzio che sino a un attimo prima pesava come un macigno sul sagrato della chiesa nella piazzetta di pezzi di greco. Il saluto a Giovanni Custodero, morto a 27 anni dopo una battaglia coraggiosa che ha emozionato l'Italia intera, è intenso e straziante, ma anche pieno di coraggio, come i cento elmi stampati sulle magliette bianche che fanno da cornice al feretro sul quale spicca il simbolo dei gladiatori, il simbolo di Giovanni. Il lungo addio inizia nella piccola chiesa della confraternita, dove il via va incessante sin dalle prime ore del mattino, e alle due del pomeriggio, un'ora prima dell'esequie, non c'è più spazio neanche all'esterno, tra corone di fiori, striscioni e ragazzini che piangono. Sei un eroe, urla una donna in lacrime quando Giovanni lascia la piccola chiesa per essere trasportato a spalla sino alla parrocchia del paese. La fidanzata Luana stringe la sua foto, in cui ovviamente lui è sorridente. Ai piedi dell'altare la sua allegria spicca insieme all'elmo da gladiatore, mentre don Antonio Esposito, amico di famiglia, pronuncia un'omelia in cui non risparmia qualche sorriso, perché, dice, così avrebbe voluto lui. Il suo desiderio non è finito qui, ma parte da qui e noi dobbiamo continuare a raccontarlo. Alla fine è Davide, il suo amico del cuore, a emozionare tutti, con un ricordo semplice e sentito. Non dimenticatevi mai, mai, di quello che Giovanni ci ha insegnato. Combattete. Al momento dell'ultimo saluto non c'è solo pezze di greco all'uscita della chiesa, ma quel popolo di decine di migliaia di amici che Giovanni è riuscito ad ammaliare ed emozionare in queste settimane, conquistandoli messaggio dopo messaggio, miscelando coraggio e tristezza, dolore e voglia di vivere. A salutarlo c'è anche Caterina Bellandi, conosciuta per il suo taxi Milano 25, ereditato dal compagno morto di cancro e che da allora accompagna gratuitamente i malati di tumore. È un dolore immenso quello di lasciare andare Giovanni, ma lo conoscevo, mi è stato presentato, sapevo che non mi sarebbe mai appartenuto, ma sapevo anche che avrei potuto amarlo come senza confini, lasciandolo andare.